sei incazzato Federico Fedez veramente oh cazzo no Federico perché noi non ci saremmo mai per me noi proprio manco sappiamo che significa il dissing che tu sei il numero uno dei numeri uno dei numeri uno dei top of the prop top of the pop dei social mai ci daremmo per me si fa un dissing ma che cazzo significa fate le sue pop comprate mai noi sappiamo fare queste cose sulle pop non funziona per vendere noi siamo venuti noi non ti singhiamo nessuno alla Rai noi ci ingaggiamo a proposito di questo aspetto subito chiarirei subito con questo aspetto la Rai non ha ingaggiato a noi perché non abbiamo preso una lita stasì siamo arrivati alle dieci e mezzo non abbiamo mai visto come non abbiamo preso solo né un dirigente della Rai allora mettiamo le sue pop e vendiamo le mutande per noi ma non abbiamo visto un dirigente stasera non è che un dirigente della Rai tu dici dite questa cosa contro Fed niente noi arrivati qua saliti sul palco ho detto una cosa anche ovvia televisiva soprattutto un programma in diretta televisiva nessuno avrebbe potuto fermarti la vita con un artista come Fedez un certo calibro come Fedez che fai con Fedez ma nessun altro artista non è che sarebbero arrivati i bodycars sul palco a buttarvi a terra se si fai da la c***a se ne vado di sì con le mani della nuova buttate Fedez buttate Fedez buttate Fedez in un sacco di terra è pericoloso quindi avresti potuto esprimere il tuo pensiero senza fare tutte queste polemiche poi alla fine con chi te la sei presa con l'ultimo dei f***i funzionanti tu hai un pensiero vai e lo dici nella polemica che c'è stata una cosa ovvia secondo me perché noi raccontiamo le storie caro Fedez oh 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 abbiamo fatto tre storie tre storie senza far mango è il momento degli spurti vai e pap comprate le mutande i c***i i c***i i c***i i c***i i c***i i divizi i baggieri i valigi i valigi i valigi i maglietti i pen le unghie i gommoni i gommoni i gommarelli i gommoni i caramari la liscia e questo lo diciamo da Superpartez perché ricordiamo che noi siamo della media sette la rai stasera non ci ha pagato non ci ha sbagli una liga a gratis come piace a noi bene solo l'albergue stiamo qua comunque detto questo Federico male ci siamo rimasti in uno non tu perché questa cosa del populista 2.0 da te non ce l'aspettava Federico caschi male sui ragazzi intelligenti perché devi dire ste c***e fai passare sta cosa che noi stichiamo la gente ad andare in giro a dire necro frucio dai non ci provare nemmeno perché nessuno ha mai detto una cosa del genere e tu lo sai bene non essere riduttivo anche perché poi si cade nel patetico e tu non puoi diventare patetico tu sei un artista attenzione Fede attenzione mi raccomando però lo sai perché l'ha detto perché magari si infiamma la polemica se si infiamma la polemica secondo me è stata una crisi isterica di notte nooo nooo la polemica capito polemica e in mezzo alla polemica che ci sta il traffico e in mezzo al traffico ci metto sbagliati e in mezzo al traffico ci metto la sicurezza elettronica e la mutanda e ho completine e ho voti e ti mando la città mandaci gli smalti mandaci gli smalti e ho preparato e per lui per la palestra insomma una bancarella due punti ci abbiamo tutto vabbè comunque Federico non te la prendere perché piace non cagano il cazzo stai tranquillo stai sereno non fare il risentito ecco dai allora abbiamo semplicemente detto un fatto di cronaca che si può essere liberi anche in Rai ognunque basta volerlo tu andavi là se ti chiami Fedez nessuno ti avrebbe fermato quindi questo devo fare parla c'è una cosa a dire che ti ferma ehi mandaci lo smalti che ci teniamo assai mandacelo un abbraccio colore un abbraccio grande vede io vederlo sempre fa una polemica tutti i giorni sto male io un abbraccio un abbraccio